istrionico come sempre è tornato al teatro traetta gianni ciardo per la terza rappresentazione della rassegna di cui è direttore artistico il comico è una cosa seria venerdì 31 gennaio è stata la volta di italo un uomo che da anni continua a studiare per poter accedere al concorso per un posto nelle ferrovie dello stato come dirigente manovratore e che si ritaglia uno spazio tutto suo su un piccolo lembo di lungomare dove poter studiare tranquillamente per l'esame l'incontro con una giovane donna straniera portata con la forza nel nostro paese con l'illusione di una vita migliore ma in realtà costretta al mercato della prostituzione e per questo decisa ormai al suicidio stravolge completamente la giornata di italo che cerca come al solito con la sua mimica e i suoi gesti di avvicinarsi alla donna raccontandole la sua vita ma chi è italo veramente italo è praticamente è un'anteprima teatrale che ha dato il nome a italo il treno che poi il ministro dei trasporti ha inventato e ha costruito è stata una combinazione perché noi abbiamo fatto questo spettacolo prima ancora che cominciasse che si venisse venisse fuori questo treno poi è stato perché italo è il maschile di italia l'italia sarebbe era diciamo era una nazione alla quale eravamo molto legati diciamo l'italia sia non tenendo conto né dell'italia del nord dell'italia del sud dell'italia cioè no è l'italia era una nazione il tricolore era tricolore e poi diventato un colore solo però bisogna però bisogna vedere che colore è diventata l'italia però a noi non ce ne frega perché poi italo praticamente è come se rappresentasse l'italiano e l'italiano sono io viaggiando sempre sulla linea sottile tra il serio e il faceto questo è stato sicuramente il personaggio più fragile interpretato da ciardo comico al punto giusto serio in altre situazioni sul palco anche questa volta il comico barese gioca con i riflessi della memoria che bene si illuminano attraverso le sue parole colme di un tempo ormai trascorso ma anche schietto e crudo quando chiede alla donna il prezzo delle sue prestazioni sessuali che differenza c'è fra questi tre spettacoli che il titolo cambia e anche il repertorio anche anche repertorio praticamente allora 900 aveva un discorso suo ricorda futuro aveva un discorso suo è italo l'unica che poi non è novità l'unica diciamo di cui io mi posso vantare e che in tutte trezzo io pure